Così ora ci possiamo vedere pure l'indigodì. Non sai che fai freddo da casa? Sì. Ma tu che cosa mi hai ricordato? Va freddo Quattelli. Sì, si è rotta la caldaia. Devo chiamarla idraulico. Tutte le sere torno e trovo mia moglie sotto zero. Beata a te. Io quando torno a casa ogni sera, trovo mia moglie sotto a uno. Capito?